Quella di Panettieri e del suo presepe vivente è certamente una fedele riproduzione del racconto della Natività, ma allo stesso tempo per l'impegno e la passione di risultati è divenuta ormai una vera e propria arte in grado di affascinare, coinvolgere e commuovere. Anche l'undicesima edizione del presepe vivente più grande della Calabria si è chiusa con un bilancio più che positivo. Migliaia le persone che lo hanno visitato, alla ricerca degli antichi mestieri e della possibilità di rivivere il fascino di una storia sacra. Certamente non me lo aspettavo, ero venuto qui solo per un gesto direi affettuoso verso questa piccola comunità che è l'ultima ai confini con Cosenza, quindi per me era un gesto verso la piccola comunità. La visione del presepe non solo mi ha ripagato, chiamiamola, di questa piccola preoccupazione o difficoltà per venire perché ci vuole un po' di tempo, ma sono rimasto stupito, meravigliato. Diciamo che è un tuffo spirituale che ci fa rivivere non solo la storia sacra, ma il Natale che stiamo vivendo. Ma l'impegno della piccola comunità di panettieri suscita commenti entusiastici non solo sotto il profilo religioso, ma anche sotto quello, diciamo così, laico e pubblico. Io sono convinto che questi sono i modelli da esportare per far comprendere, soprattutto al di fuori della Calabria, che c'è una Calabria diversa rispetto a quella stereotipata che viene diffusa attraverso anche gli orghi di informazione. Io credo che questa undicesima edizione del presepe vivente di panettieri sia la dimostrazione palese e plastica di come si possa fare bene, anche utilizzando le risorse importanti, intese come risorse umane del territorio. C'è passione, c'è impegno, io credo che ci sia tutta la caratterizzazione della gente di Calabria.